Giovanni Memovia, se vuoi prendere Trenta e Lodi a tutti gli esami devi studiare 10 ore al giorno a meno che rendi la giornata di studio produttiva. Oggi in questo vlog ti porto con me in un'intera giornata di studio e lavoro perché ti voglio far vedere come negli anni ho imparato a organizzarla come lo facciamo con la maggior parte degli allievi del corso Memovia. E ti voglio motivare per evitare dei grossi errori e farti vedere che si può prendere Trenta e Lodi a tutti gli esami senza distruggersi di studio per 10 ore e senza pause. Se ti piacciono gli argomenti farò dei video specifici su ciascun argomento che tratteremo oggi quindi iscriviti al canale e fai clic sulla campanella così non te ne perderai neanche uno. Considera infatti che i nostri metodi sono nati mentre lavoravo e che tuttora lavoro full time e continuo a studiare per l'esame di stato. Quindi diciamola così l'autodistruzione cioè esaurirti per lo studio non è consentito cioè non possiamo impiegare troppo tempo per studiare e dobbiamo avere un metodo di studio efficace ed efficiente. Quindi continuiamo con questa che chiamerei una guida alla costruzione di una vita per studenti antimaniacale. Ogni mattina quando mi alzo dedico del tempo a un paio di cose che faccio ogni giorno al mio diario alla programmazione della giornata e alla lettura e poi mi preparo è importante non stare in tuta tutto il giorno e faccio la mia doccia fredda. A casa ho uno studio che è il mio spazio preferito per studiare e lavorare. Cerco di farlo solo lì perché ho provato a studiare e lavorare in altre parti della casa ma a un certo punto mi sentivo come se facessi solo quello nella vita e ciò è stato molto demotivante. A proposito sempre come regola antimaniacale ho capito che non bisogna mai mischiare attività. Per esempio ascoltare audio lezioni mentre ti vesti o fai altro serve a pochissimo, non c'è elaborazione, è solo tempo regalato, ha uno pseudo studio e tolto alla presenza di vita. Anche qui duri poco con questi ritmi, inoltre è provato che se colleghi studio e per esempio lo stare a letto questo ti darà sonnolenza, lo studiare a letto è un'eresia e così studiare dopo cena che è una cosa molto faticosa. Tendo a studiare a blocchi di due ore di attività singole e focalizzate senza distrazioni. Faccio pause frequenti ogni volta che mi va e non uso schemi rigidi di alternanza tra studio e pausa. Anche questo è, come vedrai, molto antimaniacale. Sul canale trovi anche dei video sulla concentrazione che potrebbero aiutarti, ti lascio il link in descrizione. Nel tempo che studio prendo moltissimi appunti scritti a mano o al PC. E' importante fare questo perché scrivere al PC in effetti riduce l'elaborazione e quindi è stato provato che scrivere a mano è molto più funzionale. Tuttavia il digitale è effettivamente più veloce, meno dispersivo. Io sono fortunato perché scrivo abbastanza veloce ma evito di fare sintesi, schemi del libro, integrare appunti eccetera. Si perde un sacco di tempo e si fa fatica. Quindi quando prendo appunti, per esempio dalle lezioni online, lo faccio con una tecnica specifica che fa parte dei metodi Memovia. Quindi non trascrivo mai parola per parola quello che dice il professore. Ma faccio sempre elaborazione prima di scrivere qualcosa. Per quanto riguarda prendere correttamente appunti, ne ho parlato in diversi video e trovi i link in descrizione. Siccome avrei capito che passo tantissimo tempo davanti al PC o davanti a uno schermo o a dei fogli, comunque con gli occhi puntati verso qualcosa, la testa è impegnata a fare qualcosa. Cerco di ritagliarmi periodicamente delle pause, guardo fuori. Quindi se sono costretto a lavorare in casa tutto il giorno, per esempio se fa brutto tempo, mi affaccio alla filestra ogni tanto e guardo il mare. Oppure vado in terrazzo per 5 minuti, altrimenti semplicemente quando posso vado a studiare e lavorare all'aperto, portando con me solo il portatile. Questo è un forte aiuto contro le distrazioni. Fidati, è molto meglio di dire non ti distrarre, non devo distrarre, devo eliminare gli stimoli distraenti. In realtà le distrazioni si evitano solo lasciando andare il cervello a quel momento di allontanamento dal libro per poi tornare a essere focalizzato sul libro. E attenzione a quello che sto per dirti perché è fondamentale, consiglio sempre dopo la presa di appunti di studiare in piedi o camminando. Secondo le ricerche, questo migliora la capacità di elaborazione e ti ricordo che questo è l'unico momento in cui è anche il caso di studiare in posti diversi della casa, che non siano il tuo studio o la tua scrivania, perché hai la libertà di camminare e non ti fossilizzi per tutto il giorno in un posto. Io dedico poco tempo alla presa di appunti perché dico sempre che la priorità nello studio non è fare schemi ma appunti perfetti, è l'elaborazione, elaborare a fondo, capire perfettamente tutto quello che studi e usare ogni minuto disponibile per ricordarlo, non per scriverlo. Guarda, prova a farlo, vedrai i risultati subito. Ci sono in descrizione anche i video sul nostro metodo di studio Memovia. Alla fine della giornata di solito mi prendo anche dei tempi di relax totale. Stacco, faccio cose tipo una passeggiata, nelle ore in cui il sole è caldo o la sera in estate, e in cui non posso studiare e lavorare. Quindi riposa, mai isolarsi, mai rinunciare a uscire, mai pensare di essere più stupidi, perché una persona che conosci studia 10 ore al giorno e alla media del 30. Questo è un messaggio molto sbagliato. Ognuno deve percorrere la sua strada con i suoi tempi, i suoi ritmi, la sua soddisfazione e perché no le sue crisi. Non siamo dei robot. Mettici anche che l'apprendimento non è questione di studiare 10 ore al giorno, ma di come studi in quelle ore? Sapere che c'è gente che studia tutto il giorno potrebbe sembrarti una cosa buona, tipo che bravi, vorrei un po' della loro voglia. E questa è una frase pericolosa. Implica che tu non vai bene. Alla fine, alla lunga, ti fa sentire demotivato, sbagliato, sopraffatto. Sicuramente in colpa. Quindi addio salute, addio equilibrio, addio soddisfazione di vita. E probabilmente addio anche 30 e lode, perché potresti arrivare a odiare la materia. Il tuo cervello dopo un po' si rifiuta perché lo sente che stai facendo ciò che non lo fa stare bene o dei procedimenti disfunzionali. Mica è stupido. Allo stesso tempo, molte delle cose che crediamo, di cui ci convinciamo, non sono consapevoli. Ce ne accorgiamo purtroppo dopo. Quindi dire che c'è gente che studia 10 ore al giorno è terrorismo psicologico. Il messaggio che voglio lasciarti è che vai bene come sei. Non devi per forza compararti con altri che studiano di più ore e pensare di doverli imitare. Puoi trovare un modo più efficace di studiare che rispetta il tuo modo di essere e di apprendere. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia dato sia alcune regole pratiche, sia la motivazione e la spinta per continuare a studiare senza ossessionarti, senza diventare maniacale, senza bruciarti i neuroni, in cose che potrebbero non servire. Iscriviti al canale, lasciami un commento qui sotto per chiedermi qualcosa, raccontarmi il tuo modo di organizzarti e di studiare, dammi un consiglio sui prossimi argomenti da trattare o semplicemente dirmi cosa ne pensi. Io rispondo sempre. Ricorda, organizza le tue giornate di studio in modo antimaniacale. Ci vediamo nel prossimo video.